Sala Grimita sabato mattina all'hotel Charlie di Pesaro per la presentazione del programma elettorale di Marco Lanzi, candidato a sindaco per il centro-destra. Un programma targato Pesaro Svolta che punta alla pianificazione con due temi ben centrali, turismo e cultura. Abbiamo dei punti ben definiti, io adesso in maniera sintetica ve ne annuncio due che poi sono molto collegati fra di loro, la cultura e il turismo. E' paradossale, è vero, parlare adesso, dire, portiamo avanti un programma sull'ocultura quando Pesaro è capitale della cultura. Ma io faccio una domanda ai cittadini, quando finirà quest'anno Pesaro è capitale della cultura, cosa rimarrà nella nostra città? Una biosfera? Dove la metteremo quella biosfera? Degli alberi che camminano? Una torre panoramica? Questo ci rimarrà? Ci rimarrà per caso invece un museo? Avremo a disposizione un museo dove portare tutto l'anno comunque fare degli eventi, far vedere, programmare delle mostre? No, non ci rimarrà niente di tutto questo. Poi parliamo di turismo. Turismo? Turismo noi sappiamo benissimo. Guardate, invito tutti i cittadini ad andare su Google, a digitare città turistica. Pesaro non viene fuori, perché Pesaro non è considerata una città turistica. La nostra è una città che vive di turismo due o tre mesi l'anno. Non è possibile, non è possibile. Anche questo è qualcosa veramente molto connesso anche alla cultura. Perché lasciamo veramente decadere dei monumenti bellissimi come Rocca Costanza? Io che sono di Milano mi viene in mente come se Milano in qualche modo facesse decadere un monumento storico che attrae migliaia di turisti tutto l'anno come il Castello Sforzesco, gli Orti Giulhi. Ma sono tantissimi gli esempi. Noi veramente potremmo dare una svolta, una nuova vita alla nostra città. Ma poi il turismo non è soltanto cercare veramente di riprendere in mano questi monumenti storici, culturali della nostra città. Significa anche fare rete con Fano, Rubino, con il nostro meraviglioso entroterra. Fare dei percorsi enogastronomici, rendere vita, viva veramente la nostra città 360 giorni l'anno e non soltanto due mesi. Veramente in questo modo potremmo dare una vera svolta alla nostra città.